Pioggia di medaglie nella due giorni che si è conclusa, domenica 13, dei campionati italiani di atletica leggera indoor organizzati per il sesto anno consecutivo al Pala Indoor Banca Marche Palace di Ancona, dal Comitato Paralimpico Marche, in sinergia con le federazioni FISPES, FISDIR e Colla FIDAL. Pioggia di medaglie ma anche di record con la bellezza dei 62 nuovi primati italiani fatti registrare dai 100 atleti di 33 società sportive provenienti da tutta Italia che hanno gareggiato nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica in otto discipline sportive, lancio del peso, salto in alto, lungo 60, 200, 400, 800 e 1500 metri. Soddisfazione per il tasso tecnico degli atleti in gara e per l'ottima riuscita della manifestazione, è stata espressa dai presidenti nazionali Sandrino Porru della FISPES e Marco Borzacchini del FISDIR, entrambi presenti nella due giorni al Pala Indoor. Soddisfatto anche il presidente del Comitato Paralimpico Marche, Luca Savoiardi, per il trend di crescita della manifestazione. Cinque le società sportive marchigiane presenti, atletica Amatori Osimo, Santo Stefano Portopotenza, l'Antropos di Civitano Marche, i disabili di Fabriano e l'Asso Sport di Urbino. Per le compagini marchigiane, un campionale italiano indoor davvero soddisfacente, con 24 medaglie conquistate, la parte del Leone è stata giocata a Santo Stefano Portopotenza e dall'Antropos. Tra le tante medaglie del fine settimana, anche quella di Annalisa Minetti. La 34enne, non vedente, artista popolare per aver vinto il Festival di Sanremo nel 1998, ha conquistato l'argento nei 400, correndo in 1, 06 e 19 e migliorando il record italiano degli 8, con il tempo di 2, 32 e 46. In entrambe le discipline, la Minetti ha gareggiato accompagnato dall'ex azzurro Andrea Giocondi, finalista mondiale nel 95 sui 800 metri. Per la Minetti, i campionati indoor di Ancona sono stati un'importante tappa di avvicinamento e banco di prova per quello che è il suo obiettivo dichiarato, partecipare alla Paralimpiadi di Londra 2012. Forfè forzato invece per l'osimano Andrea Cionna, costretto allo stop per un problema muscolare ereditato dall'ultimo impegno in Nuova Zelanda, dove nella maratona ha conquistato l'argento ai mondiali. I campionati italiani indoor di Ancona si sono svolti in sinergia con il Paladro di Ancona e con l'associazione Marco Vive. Nel corso della due giorni al Paladro Indoor sono state molte le autorità civili e sportive che non sono volute mancare. Tra queste Fabio Sturani e Fabio Luna, rispettivamente il presidente del CONI regionale e del CONI provinciale di Ancona, e Giuseppe Scorzoso, consigliere nazionale FIDAL, presenti tra gli altri anche Tarcisio Pacetti del Paladro Club di Ancona, Alberto Gatto, presidente dell'Atleti di Castelfidardo e Michela Ionna dell'ufficio scolastico regionale.